Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi man mano che passano i giorni i puntini vengono sempre più uniti e per puntini intendo i pezzi del puzzle del fortbite, dei fortbite ragazzi il segreto della season 9 sta per essere svelato e con gli ultimi aggiornamenti nel mondo dei leakers di queste ore c'è davvero da dire che qualcosa di interessante sta per arrivare come sapete lo staff di Epic Games non è presente quindi ovviamente le notizie sono un po più lente rispetto al solito ma cerchiamo sempre di darvi tutti gli aggiornamenti in modo da tenervi in linea retta con quello che succede soprattutto sul dietro le quinte di fortnite nel video di oggi ragazzi voglio parlarvi della fabbrica dei robot sembra incredibile ma è confermato dalla stessa Epic Games e vi farò vedere delle immagini che c'è una fabbrica di robot in arrivo su fortnite quindi tanta roba che si va ovviamente a collegare all'evento della season 9 parleremo anche appunto del cactus event lo inseriremo in questo contesto della fabbrica per tirare delle conclusioni e ovviamente ancora un po di leaks che non avete forse visto aggiornamenti anche se ne abbiamo tempo per la bomba aerea ma volevo prima ringraziare tutti voi tutti coloro che supportano ogni giorno il canale utilizzando il codice creator xuderone grazie di cuore ragazzi per scioppazzare di prepotenza nello shop mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notizia sui miei video e sulle mie live ma prima la domanda raga la domandina ve la devo fare ci tengo tantissimo mi rispondete sempre in tantissimi qua sotto nei commenti domanda di oggi molto molto classica ma personale cosa ne pensi ragazzi della season 9 non ve l'ho mai chiesto ragazzi o forse ve l'ho chiesto no non ve l'ho mai chiesto siamo arrivati oramai quasi all'ottava settimana ci manco alla nona non lo ricordo più neanche comunque ci siamo quasi raga alla nona credo mancano davvero pochi giorni settimana prossima sarà già la nona come ti è sembrata questa season ragazzi io in tutta onestà dalla season 7 in avanti secondo me c'è stato un leggero rallentamento per quanto riguarda gli eventi in game cioè le figate che vediamo bellissimo inserisco le cose nuove modificano la mappa mettono dentro le ostiate la quattora di gigio però fino alla season 6 magari 1 2 eventini ti capitavano cazzo il cubo gigante che mi gira in mappa il lago che diventa che ci puoi rimbalzare e tante altre cose che secondo me un po' hanno si fanno sentire come mancanti magari una mia impressione ditemi quello che vi sembra della season 9 qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e vando alle ciance andiamo subito subito a parlare ragazzi del primo argomento che è molto semplice parliamo delle sfide della 14 giorni di fortnite per chi non lo avesse ancora visto ragazzi o non lo avesse fatto la sfida di ieri ci chiedeva di ringraziare per cinque volte il l'autista del bus e di posizionarvi nella top 20 in modo da sbloccare l'emoji perfect blend il nostro succo alla banana ragazzi spero che l'abbiate ovviamente sbloccata vi ricordo sempre che sul canale ci sono ogni giorno i video delle soluzioni ma andiamo avanti ho detto che tu devi andare via ma andiamo avanti non è facile coordinare le mani ragazzi ed eccoci qua ragazzi il nostro donald mostarda anche oggi ci continua a tenere aggiornati nel suo status di twitter non era mai stato così attivo è a volte passavano mesi prima che si vedessero delle modifiche nella sua location arriva oggi la modifica evidenziata qua scritta così giustamente voi mi dite chiuder che diamine vuol dire qua innanzitutto si pronuncia tipo wow ok una roba del genere ho guardato in italiano non esiste ovviamente nessuno è che va in giro di giro che cacca sei matto no in inglese invece la definizione di wow è un comando che può essere dato agli animali tipo quando stai tirando un cavallo o per dirti no ma anche i ragazzi potrebbe essere semplicemente il suono di una sirena interpretato tipo wow capisci una roba del so che sono un deficiente però devo farvelo capire a voce ragazzi la cosa incredibile è che quel suono potrebbe essere ricondotto ad un leaks che ci è stato detto da un leakers mondiale interesting fact the pressure plant is referred to robot factory in fortbytes and in week 10 challenge il nostro impianto a pressione in realtà e adesso vi faccio vedere non è più chiamato così dalla settimana numero 10 il che mi fa pensare che potrebbero esserci delle modifiche morfologiche proprio all'impianto stesso probabilmente quando torna il team di epi games ma si chiamerà robot factory quindi industria dei robot immagina fabbrica dei robot se volessimo dirlo in italiano ed è incredibile perché intanto queste sono le sfide della settimana numero 10 e se andiamo a vedere dove vi sto indicando la terza fase della sfida di visitare dei luoghi indicati ci dice proprio collect metal from a robot factory quindi farm metallo alla fabbrica robot e tra l'altro ragazzi questa invece è l'immagine di un fortnite che ancora non è disponibile ma che ben presto arriverà e la descrizione dice accessible with spray with the bot spray inside robot factory accessibile utilizzando lo spray bot ce l'avete presente il robottino del pass battaglia nella fabbrica dei robot quindi ragazzi oltre ad avervi fatto vedere le sfide oltre ad avervi fatto vedere addirittura questo spezzone di un fortnite nel gameplay voglio indicarvi questa porzione del puzzle dei fortnite che è davvero super interessante se notate bene dove c'è il cerchio rosso a parte che c'è la testa di un orsacchione gigante rosa che è molto molto incazzato ma se notiamo ancora meglio vedete alla alla sua destra c'è una specie di struttura che può tranquillamente essere ricondotta alle strutture di ferro presenti tuttora nella nel nostro impianto a pressione la cosa cosa vorrebbe dire nel senso che molto probabilmente questa è queste sono cose vere quella che sto per dirvi adesso è supposizione probabilmente i giocatori di fortnite potrebbero costruire un robot gigante che andrà a combattere il mostro dell'evento cattus che come sappiamo è gigante sulla schiena a il castello di picco polare non è sbagliata come ipotesi c'ha un fondo di connessione esisterebbe un botto perché ragazzi avrebbe davvero senso combattere una bestia gigante con un robot gigante non mi parto le trasfazioni non partono andiamo invece in chiusura ragazzi non è facile andiamo invece in chiusura ragazzi molto semplicemente mostrandovi il la schermata di caricamento della settimana numero 9 ragazzi come vedete il bombarolo in versione estiva che sopra uno skateboard ci indica anche la posizione della stella segreta se guardate in basso a destra vedete che la stella si troverà sopra quella specie di camion adesso non ho ben capito dov'è posizionata ma ovviamente vi farò il video e ve la farò vedere ragazzi anche per oggi io ve le ho dette tante spero che vi sia piaciuto il video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao non parte l'altro iscrivetevi al canale